Nell'arco di sette mesi e mezzo verrà completata tutta la fase di analisi e di valutazione che porterà a definire il progetto più utile per risanare la situazione. Quindi siamo riusciti a ripartire operativamente e tutto è in ordine per fare velocemente bene il lavoro che la città si aspetta. Sono riprese le attività relativi al sito di interesse regionale di pianura. Oggi a Palazzo San Giacomo è stato presentato lo stato di avanzamento delle procedure per il piano di caratterizzazione ambientale finalizzato agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree. Nel piano saranno presenti attività di indagini dirette ed indirette, con il monitoraggio delle acque di falda, prelievi di campioni ed analisi chimiche, in modo da definire le modalità più adatte per procedere alla bonifica dei suoli delle ex discariche corrispondenti a quella comunale, alla Difrab, alla Citet e quelle in località Spadari e Caselle Pisani, dopo aver individuato i punti di indagine ed il cronoprogramma per le attività che cominceranno nei primi giorni di aprile. Dopo aver affrontato definitivamente Chiaiano, messo una pietra miliare su Bagnoli con l'ordinanza che inquina paga, adesso si arriva a un punto finale su pianura, con questa attività di monitoraggio, carotaggio, analisi che ci consentirà di avere il quadro definitivo in modo da avere la certezza su quel che è accaduto in un lontano passato e quel che immediatamente devono fare, soprattutto Governo regionale e Governo nazionale. Noi siamo molto soddisfatti perché siamo intervenuti in un momento storico difficile, senza risorse economiche, ad affrontare i tre siti strategici della nostra città interessati da vicende gravi del passato, Bagnoli, Chiaiano e Pianura, a cui aggiungerei anche l'attività che si sta facendo sul Napoli Est.